Dopo sei partite di World Series abbiamo i nuovi campioni MLB, gli Atalanta Braves conquistano il quarto titolo della loro storia e battono gli Houston Astros 4-2 con gara 6 conclusa da poco, io l'ho appena vista indifferita su Sky Sport e dunque subito podcastone a caldo per parlare della serie che ha visto trionfare gli Atalanta Braves e dunque celebreremo la vittoria della squadra della Georgia per il quarto titolo della storia della franchigia, il secondo da quando i Braves si sono trasferiti ad Atlanta. È il primo titolo che i Braves si aggiudicano dopo appunto lo storico del 1995 ed era dal 1999 che i Braves non arrivarono alla World Series dove peraltro li persero 4-0 contro gli Yankees, qui invece abbiamo un'Atalanta differente che ha ragione gli Houston Astros che comunque potevano essere considerati favoriti rispetto a questi Atalanta Braves quantomeno sulla carta ma ovviamente il baseball dice sempre cose diverse dai promessi sulla carta e il campo ha dimostrato che i Braves sono stati nettamente superiori agli Houston Astros nonostante appunto Houston abbia provato a risalire quantomeno nelle parti finali della serie, analizzeremo però nel dettaglio tutte le partite più avanti, prima parliamo di questi Atalanta Braves vittoriosi perché meritano tantissime menzioni, una squadra dicevamo storica del meraviglioso gioco del baseball che ha vinto già un titolo negli anni d'oro, fino anni 90 e inizio anni 2000, nel 95 fu l'ultimo titolo con la squadra appunto portante il nome di Atalanta Braves, l'ultima prestazione alle World Series fu nel 99 e da lì in poi i Braves complice un arrivo sempre playoff ma un'uscita prematura, complice anche un grosso periodo di rifondazione che li ha visti navigare in acque profonde della classifica della MLB, non hanno mai avuto modo di riaffacciarsi alla luce Il processo di rifondazione poi in realtà finì qualche anno fa a partire dal 2018 quando consecutivamente le vittorie della National League East sono arrivate per i Braves e ovviamente anche le conseguenti partecipazioni ai playoff, le World Series invece queste mancavano, ci sono arrivati a un passo lo scorso anno perdendo in sette partite contro i Los Angeles Dodgers, qui ci sono arrivati ribattendo i Dodgers nella rivincita dello scorso anno e hanno avuto ragione sempre in sei partite degli Houston Astros Il punto di forza di Atalanta Braves è stato sicuramente il bullpen che è stata la cartina di tornasole per eccellenza della serie, in una serie peraltro molto particolare soprattutto per quanto riguarda l'andamento dei lanciatori partenti da una parte e dall'altra Houston non era la solita Houston, ha mancato totalmente di attacco e soprattutto del lanciatore partente selezionato per gara 1 e gara 5 al secolo Franber Valdez, considerato che comunque Lance McCullers non era presente causa infortunio out for the season per lui E in ogni caso tutti questi fattori e altri che elencheremo hanno portato alla conquista del quarto titolo della storia di una franchigia storica appunto come gli Atalanta Braves che appunto culminano questo periodo di rifondazione con il titolo vinto con molti dei ragazzi presi nei vari draft e fatti crescere nel loro far system Un nome su tutti è Dansby Swanson, l'Inter base titolare che fu addirittura una prima scelta assoluta del draft se non vado errato del 2015, una serie che ha visto Atalanta trionfare e meritare assolutamente il titolo contro quegli Houston Astros che ripeto saranno i bidonari, saranno i cheater ma sono arrivate alla terza finale in 5 anni ma non hanno come dire saputo rimediare all'ennesima finale persa come nel 2019 Perché anche due anni fa hanno dispari e quindi dinastia Houston se vogliamo dirlo Finale appunto per la formazione texana, persa in 7 partite contro i Washington Nationals, qui persa in 6 con la chance di riaprirla addirittura in casa per ripeto una squadra che in realtà non era propriamente la Houston che conoscevamo soprattutto nella fase finale dei playoff Sei partite sono bastate ad Atalanta per vincere questa serie, una serie peraltro divertente che mi è piaciuta seguire fino all'ultimo e di questo ringrazio Sky Sport per il servizio offerto Adesso ci entriamo però più nel merito e analizziamo ogni partita fino ad arrivare al culmine di gara 6 e ovviamente anche al culmine del finals MVP per usare un termine cestistico Una partita che fin in realtà da gara 1 avrà come dire un indizio su chi potrà essere un fattore in questa serie e parliamo di Jorge Soler che mette il fuoricampo d'apertura delle World Series al primo di fatto confronto Per aprire la serie finale e Jorge Soler mette appunto con un fuoricampo al Minute Maid Park e gli Atalanta Braves sul tabellone immediatamente E già questo è un fatto storico perché prima di lui non era mai capitato che un lead off di una squadra in trasferta sbattesse fuori la palla oltre le recinzioni Era capitato per le squadre di casa quindi nella parte bassa del primo inning ma mai nella parte alta del primo figuratevi al primo confronto appunto di gara 1 Quindi in questo caso tra Franber Valdez che ripeto non sarà un fattore in questa postseason e soprattutto in questa World Series e Jorge Soler Atalanta nei primi due inning va sul 3 a 0 e di fatto già questa partita più o meno è indirizzata verso la Georgia un po' come sarà a gara 6 ma di quello ne parleremo Diciamo che già qui però entra in gioco un fattore molto particolare ovvero la serie di infortuni che riguarda i lanciatori partenti Già entrambe le squadre erano a corto di lanciatori partenti tanto è vero che Atalanta ha dovuto rimediare a un bullpen game non per una ma per due partite E la seconda partita sarà un bullpen game perché il lanciatore partente dei Braves ovvero Charlie Morton durerà soltanto due inning e un terzo uscirà diciamo anticipatamente dal terreno di gioco per una botta alla caviglia dovuta a una line drive appunto subita Charlie Morton era evidentemente l'asso della rotazione dei Braves ed era il motivo per cui nel piano partita i Braves dovevano schierare tre lanciatori partenti in gara 1, gara 2 e gara 3 Bullpen game a gara 4 e poi la rotazione dei partenti riprendeva con gara 5, gara 6 e gara 7 E invece Morton appunto esce anzitempo in gara 1 e da qui in poi il bullpen doveva fare gli straordinari Peccato che i Braves sono di fatto la miglior squadra con il bullpen più incredibile della MLB perché da qui in avanti il bullpen dei Braves sarà il vero fattore decisivo della World Series O quantomeno se non il più importante uno dei primi Se dovessi fare una classifica in realtà in modo di vedere bullpen dei Braves primo fattore decisivo Secondo fattore decisivo l'attacco dei Braves che nei come dire turning point della serie ha risposto assolutamente presente AJ Minter dovrà fare gli straordinari fin da gara 1 entrando di fatto al terzo inning in corso e portare a casa statisticamente la vittoria Pur concedendo soltanto un punto a tabellone AJ Minter è uno dei rilievi più importanti dei Braves E appunto lo vedremo in generale in questa serie In generale comunque già da gara 1 si può identificare un altro fattore È vero che il bullpen dei Braves è incredibilmente efficace ed è talmente efficace che l'attacco di Houston viene praticamente limitato a due soli punti E se vediamo il line up degli Houston Astros come vediamo qui insomma i nomi fanno abbastanza spavento Eppure Houston non sarà un fattore Soltanto in due partite Houston avrà l'attacco funzionante e non a caso Houston vincerà quelle due sfide E parliamo di gara 2 e gara 5 Una gara 2 che finisce 7 a 2 per gli Astros Mentre in gara 1 vincono i Braves 6 a 2 con sconfitta peraltro di Franber Valdez Che ripeto subisce 6 punti nella prima partita e non solo ne subirà tantissimi altri anche nella gara che sarà presente di nuovo Appunto dicevamo gara 2 invece per passare al proseguo della serie con un riscatto da parte del monte del partente diciamo degli Astros E una prestazione invece altalenante di Max Fried che invece appunto tolto Charlie Morton era il lanciatore di punta degli Atlanta Braves Fried che ha fatto una seconda parte di stagione fantascientifica purtroppo soccomberà all'attacco degli Houston Astros Che metterà segno 9 valide e ben 7 punti a differenza dei Braves che di punti ne segneranno soltanto 2 a fronte Però di 7 valide segno che appunto in generale sulle battute messe oltre gli interni Il divario non era poi così tanto Houston è stata però comunque più cinica evidentemente a differenza degli Braves Che comunque avrebbero invocato il trionfo se avessero vinto una partita al Milo de Maid Park nella prima tranche Visto che appunto si giova col format 2-3-2 ed effettivamente è stato così Il vincente di gara 2 è Jose Orchini il lanciatore messicano e appunto la perde Max Fried che di fatto concede tutti i punti fondamentali Per quanto riguarda gli Atlanta Braves perché appunto in 5 inning lanciati concede 6 punti totali 6 strikeout è vero ci sono ma appunto questi 6 punti fanno la differenza E appunto come dicevo i lanciatori partenti altalenanti saranno il fattore un po' di questa serie Fried però a differenza di Luis Garcia avrà modo di rifarsi assolutamente Una partita che appunto vede adesso Houston svegliarsi come attacco E dunque ci si poteva aspettare una serie lunga Il problema per gli Astros è che poi nelle partite successive Quanto meno le successive 3 si giocava al True Sport di Atlanta Georgia appunto per il regolamento che spiegavo in precedenza Dunque si va a gara 3 e qui invece a differenza delle prime due vediamo una gara ultra tirata Che finirà soltanto 2 a 0 appunto per i Braves e qui vediamo l'enorme qualità del monte di lancio appunto Della formazione di Brian Snitker che troverà un Ian Anderson in stato di grazia E un bullpen che terrà soltanto fermi gli Houston Astros a due valide veramente niente Considerato che gli Houston Astros per definizione sono un attacco a dir poco esplosivo Luis Garcia che comunque ha fatto una buona prestazione Se andiamo a vedere il tabellino sarà il lanciatore perdente Garcia però abbiamo detto più volte è un lanciatore altalenante Riesce a fare bene una partita e per quello che abbiamo visto in campo in gara 3 Vediamo il Veneziano fa una buona partita perché concede solo un punto in training e due terzi Il fattore però più importante di Garcia sarà gara 6 dove verrà letteralmente bombardato Dall'attacco dei Braves che sarà fondamentale a differenza appunto degli Astros che si spegnerà Fortemente invece importante è il monte di lancio e il bullpen dei Braves Che in gara 3 e da qui per tutte le partite del True Spark sarà fondamentale Vince Ian Anderson con 5 inning immacolati di fatto sul punteggio e anche con le valide di fatto non concesse Fino addirittura al settimo inning entrante i Braves e il monte di lancio dei Braves in particolare Terrà a 0 valide concesse Houston Astros che ne metterà 2 in modo anche abbastanza fortunato in realtà Nelle ultime riprese della partita Altrimenti probabilmente staremo parlando di un qualcosa di ancora più clamoroso Finisce 2 a 0 con appunto la vittoria di Ian Anderson nella salvezza di Will Smith Un altro dei rilievi più dominanti di questa postseason per quanto riguarda l'Atlanta Braves Il punto del 2 a 0, il punto esclamativo sulla partita Lo mette Travis Darnot il catcher titolare con un fuoricampo al centro Travis Darnot insieme a Orge Soler e Desby Swanson saranno i bombardieri di fatto Decisivi degli Atlanta Braves che in realtà potevano aspettarsi molto di più da altri giocatori Ma comunque poco importa visto che appunto i Braves hanno trionfato in 6 partite contro gli Houston Astros Se di equilibrio si è parlato in gara 3 al True Sport di Atlanta Georgia Si parla di equilibrio anche in gara 4 Una gara 4 che sarà cruciale insieme probabilmente a gara 5 Anche se appunto come dicevamo per l'impostazione appunto della partita E del plan degli Atlanta Braves Gara 4 e gara 5 saranno di fatto bullpen game per gli Atlanta Braves Che vuol dire che non viene disegnato un vero e proprio partente che va profondo nella partita Per profondo intendo almeno 5 o 6 inning Ma viene dato spazio di fatto a tutti i rilievi per portarla avanti fino al nono inning E soprattutto considerato che i partenti sono pochi Charlie Morton è fuori Bisogna disegnare quantomeno un lanciatore che inizi la partita E in gara 4 viene scelto Dylan Lee Un lanciatore che diventa il mio idolo assoluto Perché è il primo rookie a fare una partenza all'esordio assoluto nelle World Series Cosa che evidentemente non era mai successa in 150 anni di storia Purtroppo per lui Dylan Lee appunto concederà un punto in un solo eliminato E da qui dovrà scendere in campo Kyle Wright Che di professione farebbe il partente Ma che è stato revoce appunto da tanti infortuni È stato riciclato spesso come rilievo E qui dovrà fare il rilievo lungo e come vediamo Kyle Wright concederà un punto A fronte di 4,2 inning lanciati Peraltro uno dei punti è un fuoricampo di José Altuve Che mette gli Houston Astros a raddoppiare il vantaggio sul 2-0 L'inning fondamentale però per gli Atlanta Braves sarà il settimo Perché siamo in questa situazione appunto 2-1 Per gli Houston Astros c'è Christian Javier sul monte di lancio Per gli Houston Astros un lanciatore fondamentale Nell'equilibrio degli Astros si presenta Debbie Swanson Debbie Swanson la caccia fuori e pareggia la partita Successivamente si gioca ricordiamo con le regole della National League Dovrebbe andare a battere il lanciatore Ma ovviamente essendo lanciatore di rilievo viene lasciato spazio a un pin cheater Quel pin cheater è Orge Soler di cui abbiamo già parlato in gara 1 Con il fuoricampo della storia delle World Series Orge Soler da pin cheater la sbatte fuori e back to back on run Per gli Atlanta Braves e da 2-1 sotto i Braves vanno sul 3-2 E poi sarà compito della scuderia, della corazzata, del bullpen dei Braves Ovvero Tyler Mazzek e Will Smith di chiudere la partita E silenziare l'attacco degli Astros In una partita fondamentale che avrebbe cambiato definitivamente le sorti di questa serie Perché da un potenziale pareggio e quindi 2-2 I Braves vanno sul 3-1 e quantomeno si aggiudicano la possibilità di tornare a Houston Qualora Houston avesse vinto gara 5 Ma questa è stata veramente la partita più importante per i Braves In modo di vedere il pivot al game per usare un termine tecnico Perché i Braves sulla carta erano sfavoriti Dare il monte del lancio come partente a un rookie assoluto Era una scelta non dico obbligata però in ogni caso molto particolare Ed effettivamente poteva giocare a svantaggio dei Braves Per il fattore emotivo Per appunto la poca abitudine di giocare una partita di questo livello Perché ricordiamo che Di Nalli non aveva mai giocato di fatto in postseason Aveva fatto comunque con parsate E il regular season aveva fatto soltanto due partite letteralmente Di conseguenza era veramente una situazione di totale emergenza I Braves hanno dimostrato di avere un carattere incredibile Di uscire fuori da una situazione clamorosamente sfavorevole E di conseguenza la fiducia era totalmente dalla loro parte Il problema è che per i Braves in gara 5 si ripete lo stesso copione E se in gara 4 abbiamo visto l'esordio di Dylan Lee Con partite all'attivo in regular season 2 In gara 5 che peraltro vincere a Houston 9 a 5 Esordisce come partente Tucker Davidson un lanciatore che di partite in regular season Ne ha fatte ben 5 E ovviamente non ha mai giocato in questa postseason Tucker Davidson peraltro si comporterà decentemente Fino al secondo inning dove in realtà subirà l'attacco degli Houston Astros Che finalmente fa l'attacco degli Houston Astros Che infatti appunto vedrà una partita incredibile Con sorpassi e contosorparsi Ma alla fine una predominanza a lungo termine degli Houston Astros Eppure anche questa partita si era messa male per la formazione di Dusty Baker Junior Perché c'è un grande slam di Travis Darnot Ancora lui che mette 4 punti sul tabellone per i Braves E rimontare 4 punti soprattutto nella finale delle World Series È veramente un'impresa non da pochi Gli Houston Astros però ci riescono Perché ricordiamo gli Astros hanno un attacco spaventoso In condizioni normali E infatti qui si è visto Perché mettono punti praticamente in continuazione Non è 12 vaida in totale con 9 punti in generale Per quanto riguarda la formazione di Dusty Baker E ancora fondamentale per gli Houston Astros Sarà Oseo Urchidi Che in realtà abbiamo visto partente in gara 2 vincendo Ma che qui vincerà da rilievo Perché dovrà appunto sopperire all'ennesima prestazione flop Di Framber Valdes Che è uno dei giocatori che dovrà praticamente rispondere Di una mancanza clamorosa nelle prestazioni Perché appunto anche in questa partita subisce 5 punti E se giungiamo appunto ai 5 subiti prima Fanno 10 soltanto su di lui Prima di gara 6 ricordo che solo Framber Valdes Ha subito questi punti qui Mentre il bullpen tutto degli Houston Astros Ne ha subiti 8 Questo per dire quanto il lanciatore partente di gara 1 E gara 5 evidentemente Che doveva essere il go-to guy della squadra Ha mancato clamorosamente E anche qui si può spiegare la debacle degli Houston Astros Oltre un attacco deficitario Perché abbiamo visto dei giocatori in rampa di lancio Nella Championship Series E qui invece collassare clamorosamente Uno su tutti Jordan Alvarez Che da quando è andato in World Series Ha combinato veramente niente Prima di gara 6 per dire aveva fatto soltanto una valida Soltanto in tutta la World Series Addirittura Martin Maldonado Il catcher degli Houston Astros Che notoriamente non è noto per la media battuta Ma per una grande difesa Ha fatto meglio di lui in tutta la World Series Maldonado ha fatto una gara 4 e una gara 5 straordinaria E infatti i 3 RBI dei 9 degli Astros Portano la firma del catcher di Porto Rico Alvarez invece non sarà un fattore La media lo vedete 0,63 Per prima di entrare in gara 6 Per colui che fu l'MVP Delle Championship Series Quindi veramente prestazioni alternanti Ma un po' In generale tutti gli Houston Astros Sono stati alternanti Sia dalle prestazioni dei singoli giocatori in attacco Sia soprattutto Dal monte di lancio E soprattutto lo vedremo In gara 6 Con la prestazione Di Luis Garcia Che appunto era stato disegnato come partente Per l'Elimination Game Una gara buona di Luis Garcia Però fino al terzo inning Quando arriva il fuoricampo di Ancora lui Orge Soler Terzo fuoricampo della World Series E questo è un fuoricampo fondamentale Perché aprirà la strada al trionfo degli Atlanta Braves Che peraltro faranno i punti decisivi di questa gara 6 Tutti su fuoricampo Perché al quinto inning Arriva il fuoricampo di Dan Smith Swanson Anche lui L'abbiamo già visto Far fuoricampo Nella fondamentale gara 4 E chiude Per Allodolcire il tutto Obiettivamente per gli Atlanta Braves L'uomo squadra Della formazione della Georgia Ovvero Freddie Freeman Il canadese Che ha sempre giocato Negli Atlanta Braves E' stato l'uomo faro della squadra Anche quando gli Atlanta Braves Non erano un fattore in questa MLB Il fuoricampo Di Freeman Chiude i conti E gli Atlanta Braves Appunto si aggiudicano Il quarto titolo della storia Con tutti i punti Su fuoricampo Va detto che in realtà In questa World Series La maggioranza dei punti Sono arrivati tramite Vieria Freeman appunto Ha fatto due fuoricampo C'è un fuoricampo Anche in gara 5 Per il canadese Ne ha fatti tre Soler Ne ha fatti due Swanson Due Darnot E' vero E' mancato Eddie Rosario Che comunque è stato L'MVP Incredibile Di queste Championship Series Ma nelle World Series Abbiamo visto Tutta la coralità Degli Atlanta Braves Che ha saputo Essere cinica A fronte di un attacco Sulla carta superiore Come gli Houston Astros Che però Come i lanciatori E' stato altalenante E praticamente inesistente Perché è salito Il bullpen Degli Atlanta Braves E gara 3 Che di fatto Hanno concesso Due valide soltanto E gara 6 Sono l'emblema Della forza Del monte di lancio Degli Atlanta Braves Che era partita Veramente Nel peggiore dei modi Con l'infortunio Di Charlie Morton Qui Il piano partita Sarà quello classico Max Fried Torna a essere Il Max Fried Dominante Della seconda parte Della stagione E fa 6 inning Di livello assoluto Con 4 valide concesse E 6 strikeout Poi entra Tyler Mazzek Uno che si stava Per ritirare Praticamente Qualche anno fa E adesso E' vincitore Del titolo Della MLB Due inning solidissimi Anche per lui E la Q De Will Smith La saracinesca Letteralmente Per gli Atlanta Braves Che appunto Vince Gara 6 Nettamente 7 a 0 Titolo ultra meritato Per i Braves Squadra che Per la cronaca Nella pausa Diciamo Dello star game Aveva pochissime chance Di vincere Sia il titolo di division Che quantomeno Arrivare in fondo Alla World Series E invece Quegli aggiustamenti Che abbiamo visto Nella off season O meglio Nella 3 deadline E con questa forza Del bullpen Che si è ritrovato Veramente Gli Atlanta Braves Hanno meritato Di battere La concorrenza Ed aggiudicarsi Il titolo 2021 Della MLB Una squadra Veramente Incredibile Molto bella Da vedere Che mi ha fatto Vedere Dell'ottimo baseball E delle questazioni Suntuose Appunto Dal bullpen E questa È l'ennesima Dimostrazione Di quanto Il monte rilievi In questo baseball Ultramoderno Sia veramente Il fattore Fondamentale È il quarto titolo Per gli Atlanta Braves Che hanno anche L'MVP Da celebrare Di queste World Series E ovviamente Non poteva che essere lui Jorge Soler Il cubano Che è venuto Ad Atlanta Dopo Un'enorme parentesi Con i Cassa City Royals In American League Central E l'esordio Con i Chicago Cubs Dove è andato via Prima che i Cubs Peraltro Vinsero il titolo Nel 2016 Contro i Cleveland Indians Le statistiche Con cui chiude La stagione Soler Sono queste 242 Di media battuta 3 fuoricampo E 6 RBI Ma tutti e 3 fuoricampo Sono arrivati Nella World Series E sono 3 fuoricampo Storici Perché appunto Abbiamo detto Il primo fuoricampo In gara 1 E il primo nella storia Di un battitore Lead off Di una squadra in trasferta Il primo turno Di sempre Delle World Series Ovviamente Delle World Series In corso Il fuoricampo Di gara 4 E semplicemente Il quarto della storia Che dà Il vantaggio Alla squadra di casa In generale O in una squadra Delle World Series Dapping Cheater E poi arriva Il fuoricampo Che spiana la via Al titolo Degli Atlanta Braves In un gara 6 Veramente Sontuoso Gli Atlanta Braves Dunque sono I nuovi campioni Della MLB Battuti Di Houston Astros Che perdono La seconda finale Consecutiva Dopo aver perso Quella con Washington Evidentemente Gioisce tutta l'America Perché Tra i meme E le considerazioni Degli esperti La Tanta Braves Avevano le simpatie Di molti Tranne a Houston Evidentemente Ma è ovvio Che sia così Sono stati battuti I bidonari I bidoni Sono stati respinti Con perdite La squadra Piatra della Lega Ha perso In onore Della squadra Bella da vedere Con una forza Del bullpen Straripante E che ha saputo Silenziare Dei nomi Che sulla carta Dovevano E potevano Fare di più Perché abbiamo detto È mancato Jordan Alvarez Jose Altuve È stato altalenante Carlos Correa Idem con patate Houston Ha avuto Delle difficoltà Enormi In battuta Ma se hai Difficoltà In battuta È perché Dall'altra parte È un monte di lanci Evidentemente Competente E di altissimo livello E quello della Tanta Braves Lo è La Tanta Braves Peraltro Sono l'ottava squadra Di tutta la storia Dell'MLB E parliamo di una storia Ultracentenaria Ad aver vinto Il titolo Della World Series Dopo aver vinto Meno di 90 partite Il regular season Altro fattore incredibile Gli Atlanta Braves Hanno vinto Sì la division La National League East Ma ricordiamo Che la National League East Non è una division competitiva Soprattutto confrontata Per esempio Alla National League West Dove abbiamo visto Che Dodgers e Giarrans Le sono date di santa ragione In generale Con 88 vittorie Non ha mai vinto Nessuno la division Quest'anno Dalle altre parti Addirittura Nell'American League East Se vincevi la division Andavi oltre le 90 vittorie Se arrivavi a 91 vittorie Sei finito quarto Vedi per esempio I Toronto Blue Jays Altra squadra Che ragazzi Segnatevelo L'anno prossimo I prossimi due anni Arriva e per davvero Atlanta ha fatto Veramente Non dico un'impresa Perché Comunque Ha vinto meritatamente Una division Sì poco competitiva Ma comunque La devi vincere E poi La squadra vera Si è vista I playoff I fattori predominanti Li abbiamo detti E evidentemente Il titolo È meritato Perché È vero Ha battuto Milwaukee Probabilmente Era una serie Facile Hanno avuto ragione Dei Dodgers E questo ha dato Probabilmente Quel quid In più Soprattutto Mentale Per dire All'Atlanta Braves Ci siamo E siamo pronti A giocarsi Il titolo del mondo Aveva ragione Jock Peterson Quando In un aneddoto Raccontato Ha Praticamente Tradendo In conclusa Di essere Convinto Che i Braves Avessero Convinto Le Borsiris Probabilmente Ci credeva Solo lui E il manager Brian Snicker Evidentemente E tutta la dirigenza Che ha fatto Gli acquisti mirati Per una Atalanta Più competitiva E questi acquisti mirati Hanno portato Alla vittoria Del titolo Dei Braves Che dunque Sono i nostri Campioni MLB 2021 È il quarto titolo Della storia Per i Braves Il secondo Ripetiamo Da quale sono trasferiti Ad Atlanta L'ultimo Fu nel 1995 Io avevo un anno Per dare un'idea Quando i Braves Vinsero L'ultimo titolo E adesso A 27 anni Posso citare Quello che ha detto Scott Braun Il teleconista Di MLB Network The Braves Are on top On the baseball world Per il 2021 E con questo Chiudiamo La MLB review Di quest'anno Ci rivedremo L'anno prossimo Come al solito Per parlare Della off-season Che sarà Una off-season Abbastanza travagliata Perché ci sarà Discutore il contratto Collettivo Ci saranno Evidentemente I colpi Per tutte le franchigie In vista del 2022 E torneremo In primavera Con le MLB review Più forti che mai Mentre per questo inverno Concluderemo Stagione dei motori Con qualche parte Di sport invernali E quindi Come sempre Rimate studiati Sul mio canale E grazie A chiunque Ha seguito Questi podcastoni Della MLB review Il saluto Da parte di Me2Torgaard Ci vediamo presto A un prossimo video